Bentornati dal Centro Meto Italiano con il consueto appuntamento delle previsioni del tempo. In seguito alla momentanea pausa più stabile e mite sulla nostra penisola una nuova circolazione depressionaria prende forma nel bacino del Mediterraneo Centro Occidentale e si dirige verso l'Italia portando così un peggioramento del tempo ad iniziare dal settore occidentale nella giornata di mercoledì 8 febbraio ma scendiamo più nel dettaglio con l'ausilio della grafica canto. Già dalla mattinata ci attendiamo molte nuvi sulle regioni centrosettentrionali sulla Sardegna con fenomeni associati sulla Ligure, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Sardegna stessa. Sui settori alpini ci attendiamo nuove nevicate oltre 600 metri di quota altrove invece tempo per non più asciutto. Condizioni meteo invariate nel corso del pomeriggio con piogge diffuse sull'Italia nord-occidentale. Quota neve in calo fin sotto i 500 metri sul Piemonte ma il tempo intenso con piogge e temporali sulla Sardegna più stabile invece sul resto della penisola. In serata e nottata possibili nevicate fino al fondo valle sul Piemonte specie su settori di confine con la Ligure. Pioggia mista a neve sul capoluogo piemontese piaciuto sulle altre regioni settentrionali. Tempo instabile altrove con piogge diffuse al centro e neve in appenino oltre 1000 metri di quota ma il tempo sulle due isole maggiori con piogge e temporali intensi. Concludiamo dando sguardo anche alle temperature le quali si prevedono stabili e un dieve calo nei valori minimi. Calo più sensibile invece nei valori massimi. Con questo è tutto al momento maggiori dettagli e nuovi aggiornamenti sul sito www.centrometrioitaliano.it o consultando la nuova app gratuita Meteo dove trovate tutte le previsioni dettagliate sulla vostra località.